Diamo immediatamente la parola all'On. Cozzolino per quattro minuti. Care colleghe e cari colleghi, lasciatemi innanzitutto ringraziare la Commissaria che è qui presente ad ascoltarci, a discutere con noi e con tutti i colleghi e le colleghe che hanno contribuito a questo lavoro e a produrre un testo che credo rappresenti una base di partenza adeguata anche per la stessa Commissione europea. Un rapporto di implementazione, come quello che discutiamo oggi, è uno strumento a nostra disposizione per fare un'analisi di dove siamo arrivati e soprattutto per comprendere tutti insieme quali possono essere le strade migliori per far crescere e migliorare gli strumenti che l'Unione mette a disposizione dei propri cittadini. Credo che siamo riusciti in questo obiettivo e per questo chiedo alla Commissione e alla Commissaria di continuare a lavorare assieme per dare un seguito positivo al lavoro svolto finora. Venendo al rapporto abbiamo avuto modo di comprendere come, per quanto relativamente giovani, le strategie macro-regionali sono diventate uno strumento consolidato e come tale devono essere trattate, uscendo dalla fase di sperimentazione, utilizzando le migliori pratiche per migliorare i meccanismi di governance e soprattutto per stabilizzare forme di finanziamento dirette alle strategie, sia sul versante europeo che su quello nazionale. Per questo nel rapporto chiediamo due cose fondamentali. La prima è agli Stati membri, precisi impegni soprattutto nelle prime fasi, nel momento stesso della costituzione delle strategie in termini di risorse finanziarie e umane, inoltre di prevedere anche con il sostegno della Commissione forme di incentivi o facilitazioni per le azioni in attuazione delle strategie. Il secondo luogo ha la Commissione, invece, di utilizzare le prossime riforme del quadro finanziario e della politica di coesione, sia per ridefinire e meglio calibrare i target e gli obiettivi delle macro-regioni, sia per tracciare all'interno dei futuri regolamenti un ruolo nuovo, settori di intervento, anche alla luce delle nuove priorità che l'Unione si sta dando, e forme di lavoro di implementazione, individuare misure e progetti specifici a definire fonti di finanziamento certo per realizzarli. In generale, bisogna progressivamente superare il meccanismo per cui le strategie debbono di volta in volta chiedere finanziamenti a programmi diversi, di fatto rafforzando fin da principio il collegamento diretto tra le azioni delle strategie stesse e le fonti di finanziamento UE. Sulla regola dei tre no, no a nuove strutture, no a nuove regole, no a nuovi finanziamenti, credo sia giusto giunto il momento di aprire una riflessione, capire come e in che modo essa, a distanza di dieci anni dalle prime strategie, debba essere declinata per continuare ad avere un senso, che comprendiamo ovviamente e non diventi solo una zavorra. Per questo chiediamo alla Commissione che nella prossima relazione ci possa fornire anche un'analisi dell'impatto dei tre no, sull'implementazione delle strategie e sulla realizzazione dei progetti. Infine, sulla governance, il punto probabilmente più delicato. Siamo d'accordo che l'attuazione delle strategie non possa più essere affidata ai soli governi nazionali, ma che vada condivisa e realizzata con il consenso e con la stretta cooperazione dei livelli locali e regionali, soprattutto della società civile. In effetti, troppo spesso, e vorrei su questo punto concludere, le strategie peccano per assenza di titolarità e risentono di questa mancanza. Il livello nazionale risulta troppo distante e probabilmente anche troppo poco attento. È per questo essenziale riavvicinare la titolarità delle strategie ai cittadini, restituendo alle autonomie locali, alle regioni, un ruolo attivo e decisivo in fase di programmazione, oltre che di attuazione. Mi sembrano questi i punti su cui abbiamo raggiunto un largo consenso sul rapporto e mi auguro che il dibattito possa confermarlo. Grazie, la parola al commissario Crezzo, tre minuti. Grazie, Presidente. Buon anno. Onorevole deputati, comincio ringraziando l'onorevole Andrea Cozzolino per la sua relazione. La Commissione accoglie con favore gli sforzi per fare un'analisi